Salve a tutti, sono Giancarlo Pancelleri del Movimento 5 Stelle di Caltanissetta. Già dal 2008 abbiamo provato a fare le riprese integrali del Consiglio Comunale a Caltanissetta, purtroppo nel 2008 con scarsi risultati, infatti siamo stati invitati ad accomodarci fuori perché non potevamo avere una telecamera accesa per riprendere quelli che poi alla fine sono i lavori di un Consiglio Comunale che è pubblico e che è chiaramente pagato alle tasse dei cittadini ed sono persone che non hanno privacy perché sono nell'esercizio di una funzione pubblica. Finalmente qualche mese fa abbiamo avuto la possibilità di cominciare a riprendere perché si sono accorti dopo la nostra particolare insistenza che all'interno del regolamento non c'erano particolari clausole che non permettessero le riprese del Consiglio Comunale. Fino a ieri sera quando è successo qualcosa che è particolarmente grottesco e qui abbiamo Angelo che è uno degli attivisti del Movimento 5 Stelle Caltanissetta che segue l'operazione Fiatto sul Corlo, così chiamata in tutta Italia. Angelo, cos'è successo in questi mesi? Noi da fine gennaio siamo riusciti a iniziare le riprese del Consiglio Comunale perché dall'ottiense del 24 gennaio c'era stato come da prassi mandato il vigile per farci spegnere la telecamera. Avevano con noi il regolamento, l'abbiamo civilmente mostrato e il vigile ha constatato che non è pietato il riprendere per cui da quella data noi riprendiamo tranquillamente tutti i Consigli Comunali che poi mettiamo integralmente online senza commenti su YouTube. Quindi facciamo un servizio gratuito per la cittadinanza a nostre spese, a nostro penico a disposizione e tutto il resto. Questo devo dire che è stato anche apprezzato, sembrava almeno essere apprezzato da un Consiglio Comunale. Infatti nel tempo con i problemi di luce e batteria l'ex presidente Territo anche se a gennaio ci aveva mandato lui il vigile si premurò di cercarsi una presa e poi il presidente Pro Tempo Rinaldi da quando è in carica, perché ancora non c'è il presidente eletto ci permette tranquillamente di attaccarci alla corrente del Comune quando il Consiglio si protrae troppo lungo e quindi le batterie nostre finiscono. Ieri sera, per otti personali, il presidente Rinaldi si è dovuto allontanare e si è stato sostituito da un altro presidente, il consigliere Scadia e da quel momento ci è stato detto che non potevamo attaccarci alla corrente elettrica perché la corrente è del Comune, perché abbiamo chiesto al vigile che alla fine è colui che fa solo, esegue solo degli ordini chi fosse il Comune, il vigile si è detto di staccare e abbiamo dovuto staccare la corrente e alla fine infatti le batterie riprese sono finite però abbiamo aspettato una fine del Consiglio, abbiamo parlato ovviamente e chiesto lui al presidente del perché prima fossimo autorizzati del perché adesso non lo siamo più e ci è stato risposto che la corrente elettrica è del Comune e quindi il privato non ne può usufruire ma chi è il Comune se non liberi cittadini questa è una buona domanda liberi cittadini che svolgono un servizio gratuito, a propria spese senza orientamenti politici perché non mettiamo commenti sui video e che è sempre apprezzato da tutti e che invece ci sono detto che non è proprio così apprezzato perché di volta in volta c'è sempre qualcuno che si lamenta col segretario, sempre diverso ci è stato detto del fatto che noi attacchiamo la telecamera se consideriamo anche che quattro consigli comunali consecutivi il quarto stasera dove ci sono state non decisioni e l'espressione della non politica ci costano circa 10.000 euro e che il presidente si è preoccupato di farci staccare la corrente elettrica per due centesimi di consumo capite bene a che punto siamo arrivati quello che è successo è veramente ridicolo allora cerchiamo di rispondere soprattutto alla domanda chi è il comune? noi la risposta chiaramente l'abbiamo più volte data e la continueremo a dare il comune sono i cittadini sono coloro che pagano le tasse non può nessun consigliere, nessun presidente nessuna persona che ha una qualunque facoltà all'interno del consiglio comunale intimare dei cittadini liberi di non poter usufruire della corrente perché qui non si sta parlato di un utilizzo privato ma di un utilizzo a fine pubblico sono delle riprese del consiglio comunale che vengono fatte integralmente senza commenti e soprattutto gratuitamente per la città quindi continuiamo ancora con l'operazione che è toccolo e ci vediamo alla fine Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori